Come sapete, questo non è un corso per corrispondenza in cui si tratta di un professore, un insegnante e un studente. Questa è una classe, ci sono più di voi dentro della classe. In una classe che si riunisce in un'aula c'è il professore che parla ma ci sono anche delle conversazioni tra i studenti. Si dice che un buon apprendimento può venire e occorre quando gli studenti parlano tra loro. Per questo abbiamo questo dovere, questo compito in questa classe che dovete inviare almeno tre post di risposta ogni settimana, di risposta alle cose che i tuoi campagni di classe hanno scritto, inviato al muro o anche qualche cosa che io ho scritto in risposta agli altri studenti. Non importa in che parte della classe può venire per esempio una risposta a qualche cosa al dovere della lettura o può avvenire in risposta a qualche cosa che un altro studente ha inviato riguardo al progetto della settimana o anche una risposta a un altro studente. Non importa neanche il giorno in cui tu fai o voi fate questi post, però saranno più efficaci come apprendimento se non lasciate fino alla domenica sera tardi di farlo. Mi piacerebbe vedere i post di risposta fin dai primi giorni della settimana. Ok, facciamo delle buone conversazioni, facciamo del buon apprendimento tramite questo modo di parlare gli uni con gli altri.